Hakuna Matata ragazzi, ben ritrovati qua dal vostro Iceportantanale Siamo tornati in un nuovo episodio di Devil May Cry Allora, subito un bel pollicione in su, vi porto su Devil May Cry Vi ricordate dove eravamo? Sì Dai, missione 15, bivio nero Ok, quindi Non so se mi faranno giocare con nero Ah sì Ah ma quindi fammi Cioè ma quindi fammi capire La scelta è stata inutile Sì ma non è vero Perché tanto me li fai pagare Cioè io sto salvando il mondo E tu ti fai pagare questa roba qua Sarai una disgraziata Secondo me Questo che cos'è? Oddio non è che mi interessa tantissimo Però costa così tanto poco che lo vado a comprare Cioè 1800 mi sembra Ecco vedete già l'altro 35.000 Già 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 a me sembra più importante Questo ce l'ho Ma potrei portare un altro Breaker Ma tanto non è che li uso così tanto Per dire Ma questo pure non la uso Cioè Purtroppo non la uso Cioè quindi Che cosa la E questo a quanto pare lo userò tantissimo Questo sì Lo userò tantissimo YY E beh questo sì Questo sì A terra c'è più difficile Questo mi potrebbe essere Potrebbe essere molto carino Non lo so Sto vedendo un attimo Le tecniche Ah ok Questo è carino Questo lo vado a prendere Madonna mia Quello pure sarebbe molto molto carino 300.000 No 3 milioni Non so quanto è Direi anche di no Sì Voglio uscire Dai mi tengo Altro per qualcos'altro Che poi probabilmente Dovrò fare attenzione A vedere quale personaggio Mi ci trovo meglio Alla fine di tutti Quello che ho potenziato Un po' di più Perché poi magari Devo usare quello Ipotizzo Sapete sono un po' deluso Che poi mi fanno Riusare gli altri Per arrivare tutti Allo stesso momento Devo essere sincero Ah La strada La strada si divide Dove vado Vabbè ma noi Andiamo qua Ma chi se ne frega Ok Non credo che Erano letali Quei cosi Eh però Devo rima Andate sotto Secondo me Eh sì Madonna Secondo me Io ipotizzo Va bene però Appena ti toccano Eh vabbò Vabbò Eh sta bene Ci siete riusciti Quindi Ah probabilmente Mi manda Mi rimanda Semplicemente sopra Ma io l'ho fatto Per recuperare l'energia Scusatemi Però Ma questa telecamera Sicuramente Non aiuta Dai 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 Ok Ah Apocalittico Mi piace già di più Mi è andato sopra E si ricomincia La tirintella Dai Dai Non mi rompe Ok Che falle Sti pezzi Ok La sopra Pensavo che Di poterci salire Ti dico la verità Carina questa Quella ho appena comprato Nooo E' questa E' così E' così E' così Allora Questo non me lo fa fare Perché Vediamo Mi da Non me lo fa fare Quindi probabilmente Devo scendere sotto Perché non me lo fa fare Ragazzi Che roba pazzesca Qua sotto Chi se ne frega C'è una bara Ma sicuramente Ci sarà stato Un botto Di roba Da Immaginavo Ragazzi Ragazzi Dai Dai Mi state Approfittando Di me Io questo Ok Ok Sempre il cambio Potevano farlo Leggermente Migliore Eh Non vede rotto Le schiame Non vede rotto Eh Va bene Va bene Sto cerchendo Seriamente Di Ok Adesso Oh Devi prendere Lui Ma cosa Di chi vuole Beh ragazzi Io più che sparargli È questo qua Non è che Ecco Sei contento Sono molto contento Vabbè Comunque il cambio Player Non mi piace Perché poi Io ci metto Comunque un botto A ritrovare La sintonia Ci metto Tantissimo Regà Ma tanto 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 E non Mi piace Come cosa Non mi piace 33.000 Non credo Che posso fare Niente Tanto è vero Che non Sorry Dante Quando vede Qua prima Che ci sta Guarda che si Stavo quasi Stavo quasi Per fa Beh 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 Vedi che già Ok Possono rompere Questi qua Perfetto Mi vado a prendere Qualche potenziamento Raga Dai 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 La vita sicuramente Mi serve So nice Io me ne vado a sta parte Vi ho detto Neanche me va più da Di perdere tempo Sinceramente Vai Prendo vita Non so se sto facendo Le cose giuste Le cose sbagliate Non mi interessa Ve l'ho detto Ok 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 Giustamente Ehi Ok E mi si libera Vabbè D'accordo A me va bene Non ti credere Sento Che grosso E Preoccupa Quando ti pare Quando vuoi Quando vuoi Io te lascio Un pochetto Farò C'è tipo una cosa Che collega Tutta sta roba qua A me vedi Tornando un po' indietro Qua non c'è niente Forse mi dice Andrà qua Ripeto Non lo so Sto andando Punto e basta Ok Ok Sai quanto Dovevo esplorare Qua La voglia A te Ah Mi hai portato Pure la connessione Va bene Ma pensa Vieni qua Vieni Vieni qua Ed è qua Che voglio fare Un po' di Combo Come ti deve Vieni Vieni Guardate regà Ma sapete che quando Sto bello Concentrato Che poi Ogni tanto Ritorna qua La roba Allà Vieni qua Oh Questo ci piace Ehi Non sei scesa Un po' In ritardo Bella Chiamate io Tipo Pascio così No Ma addirittura Due Mi sembra Un'esagerazione Sembra comunque Non esagerazione E va Fermi un attimo Due Sono difficili Da tenere Una Già meglio Certo Tende comunque A rompermi Seriamente Vai Vieni Vieni Ecco Due di queste Erano difficili Un po' Un pochetto Certo Della vita Me la potreste Anche dare Ma so che tanto Me la darete Tra poco Dai Anche se Ho tutte quelle Gemme dorate Che la vedo Difficile Utilizzarle tutte Ok C'è sicuramente Quando vuoi Fammi vedere là Perché vedo la gemma blu Con 40.000 No Non voglio spendere niente Per il momento Non voglio spendere Niente Beh Non c'è niente Che cosa? Oh mio dio Ma Ok Ok Madonna Ma quanto è forte Questo coso Regà È tipo 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 Pazzesco Madonna Tipo Assurdo No Pazzesco Ma Anche no Chi te toglie Ok Io penso Che questo Sia per andare A raggiungere Ma dammi qualche colpo Non ti preoccupare Sì ma a me Non c'è niente Che mi sta E fa male Ne hai capito Vieni qua E non mi rompe le scatole Ma a me Va bene così Non ti credere Ecco Mi dirai che Non so Come E' Dato Come lo scurcio Questo qua Perché non mi ricordo Mica Ok Uh Però Mi sa che fuori E moro Vedete che mi sa che fuori E moro Non ne ho che Non provo Fa Una cosa del genere Ma Ah Mo Sei bello Ma vedi come si riprende Bravo 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 Che lago Ogni tanto Se botte Laga Raga Beh C'ho la vita Un po' Approssimativa Non so se ve ne siete accorti In qualche maniera Eh Sto Prendo schiaffi Con il nero Devo essere sincero Non me lo sarei aspettato Con il nero Eh Però vedi che sono stato bravo Anche se Un po' comporta Eh Perché non è che ce l'ho Attiva Niente di che Però Intanto l'ho presa Ok Mi sono precipitato Ad andare qua Magari ho fatto male Non lo so Sicuramente devo andare per di là Abbastanza scontato Diciamo che è questo Qua Maiazza che pezza Porco giù Qua c'è Grepo Eh Qua sì Qua c'è Grepo Qua c'è Grepo Qua c'è Grepo Arrenditi Mamma mia Nella vita Ampì Ci mi lagga Un pochetto Vannaccia la miseria Ragazzi Però Siete Semplicemente Un po' tantini Ok Ok Dai mo che penso io Vieni qua bella topa Vieni Eh vabbè E' troppo forte Troppo più forte Sì Ma dai Ma te l'avevo chiesta La schivata però Ecco Dai sono Una bella pistolata Nei fianchi E va bene Raga Oggi va tutto una merda Connessione che non c'è Quello che non c'è Quello che non c'è Chissà perché Va bene Allora Ce ne dobbiamo andare Per di qua Qua ritrovo le cose viola Ok Eh sì Oggi mi frame lagga un po' Mi hai detto PC Ah ah Con 51.000 Potrei fare qualche cosa Vogliamo andare a vedere Andiamo a vedere Dai Con 51.000 Equipaggiamento No Oggetti C'ho la gemma blu Che mi da un'altra cosa vitale Che a sto punto Io ragazzi Mi vado a prendere Che sto vedendo Che qua Sto cominciando a subire Hit abbastanza importanti Ripeto Mi voglio giustificare Dicendovi che comunque Il cambio Di Personaggi E siamo ritornati qua Oh 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 Grazie a tutti Necessario Necessario per forza A me la sto Tra le virgolette Spaccando così La lascio così Ma ha detto ticche E' un ticche Aspetta un attimo Ma è quello del tempo Dessi perché Parecchio veloce L'assassina Esatto Ma gli ammazza o Oh mortacci Che attacchini E' forte 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 Io non lo frego Ma Oh C'è sto capi niente Vabbè 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 Questo C'è perché qua Ok Io sto cercando I managli più possibile In sto momento Eh ma dovevano arrivare Sti momenti Dove Oh via Sta robaccia Porta Scusa Qua la facciaccia mia Non lo buttare Buttata Poi non ho capito Se la devo Sovraccaricare O che cosa Porco ciuta Che dolore Dolorissimo 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 Dai andiamo Meno male che l'ho presa Tutte queste gemme dorate Meno male Ok Ok Oh io raga Più che Tipo se dovessi Colpire lei In realtà Penso di sì Sai Eh ora muori Un po' di schiavole Eh Ah se io faccio Così Che probabilmente Non lo so Se sto facendo bene Secondo me sì Perché Perché se no Lei si ricaricava Ok 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 Questo è Un tetto a tetto Incredibile Oh mamma mia Quanti pugni Raga Proprio Sono andato là Stecco una sotto Eh Guarda Significa E' una pippa No Poi devi anche darmi una mano Eh Vabbè Stai messo male C'hai proprio messo malissimo Eh Sì ma così Quando ci arrivate Ma non è meglio Che te lo prendi in braccio Te lo carichi sulle spalle Una roba del genere No Possibile che qui Gatta ci cova Perché hai visto che Faccinata Stronzetto Che c'aveva Io ho visto la faccinata Stronzetto Andiamo avanti Vediamo che succede M16 Bivio Dante Non lo so Dante Secondo me Dici un po' De cacchiate Ma bene Ma bene Ah perché Ma posso utilizzare Cosa col cappello D'accordo Signorotti Io spero Che l'appuntamento Di oggi Vi sia piaciuto Se fosse così Mi raccomando Pollice nel su Commentate Condividete Se non siete iscritti Iscrivetevi Al prossimo appuntamento A prossimo Ciao 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 Ciao